come devi dire se non so troppo indiscritto ma di che cazzo vuoi da bisogno se non so troppo indiscritto ma di che cazzo vuoi da bisogno che senso che senso in che senso io sono io c'ho una figlia sola io c'ho una figlia sola e non mi va a che va presa in giro e non mi va a che va presa in giro la moto io li conto al fatto e mi è successo io mi ha detto a papà mi ha tolto e compro un po' di scarpe a Via Venero e a me mi si è allargato il cuore io mi fio a Via Venero vai lì a guardare mentre se stava a guardare la padrina degli scarpe passano giù la notte e dico una frase che a me non mi è piaciuta io mi cedico la cornuto, via qua la cornuto è venuto con un tuo spavardo al più grosso mi ha dato un cazzotto in buca me lo so di guardare mi è cascato per terra come Gesù Cristo io ero un terzetto natale gli ho fantumato le bucuse e gli dicevo mi è Cristina che è successo niente pure passaggio no ma comprai scarpi sempre te la sposi o non te la sposi mi fiasco te la sposi o non te la sposi mi fiasco te la sposi o non te la sposi no ma io me las pozo no ma io me las pozo no ma io me las pozo adesso giù c'è tempo un po di no ma io me las pozo adesso giù c'è tempo un po di no ma io me las pozo adesso giù c'è tempo un po di no ma io me las pozo no ma io me las pozo adesso giù c'è tempo un po di così un po di ingranare con questo lavoro nuovo così un po di ingranare con questo lavoro nuovo il do 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 il rot questo lavoro è il do il dino che è un po di ingranare con questo lavoro perché la visione che ho provato qui è SSI Żter io ho scopato io ho scopato io ho scopato io ho scopato ma io ho scopato No! No! No!